L'emergenza coronavirus è approdata in consiglio comunale a Campobasso grazie all'iniziativa promossa dal gruppo consigliare del Partito Democratico che ha presentato un pacchetto di proposte che contribuiscono ad affrontare la situazione in maniera efficace a tutela dei cittadini. In mattinata la conferenza stampa per chiarire i termini dell'iniziativa. La proposta principale innanzitutto l'ampliamento dei posti di terapia intensiva e subintensiva all'interno degli spazi del Cardarelli visto che i numeri sono quelli che sono e il bollettino è un bollettino drammatico quotidianamente parlando. Sicuramente la seconda proposta che è parallela per i malati non covid considerando che gli spazi ormai del Cardarelli non sono accessibili non possiamo più assistere a traslochi di pazienti gravi che necessitano di essere monitorati 24 ore su 24 operati e poi trasportati in giro per il Moliso addirittura fuori regione. Abbiamo a 200 metri il gemelli spa la cattolica con spazi adeguati sia per le sale operatorie sia per le terapie intensive e quindi è il momento purtroppo aggiungo perché la situazione non l'avremmo ovviamente mai augurata è il momento che il privato convenzionato si metta a servizio del pubblico. Il blocco del Cardarelli che di fatto visti i numeri è inevitabile determina un blocco a livello regionale tutti gli ospedali che devono inviare i pazienti covid a Campobasso sono bloccati con i pazienti covid perché a Campobasso purtroppo i posti non ci sono più comunque servono posti non di deggianza ordinaria ma posti per una terapia intensiva subintensiva e quindi inevitabilmente il blocco del Cardarelli e blocco dell'intera rete ospedaliera regionale. Poi ci sono anche malati diciamo non gravi e quindi adesso la regione la protezione civile anzi sta cercando delle strutture ricettive che possa ospitarli proprio per alleggerire la pressione sull'ospedale. Anche rispetto a questo noi abbiamo fatto una proposta quando dico noi mi riferisco ovviamente oltre che a noi del gruppo consigliere del PD abbiamo condiviso con la maggioranza e con un ampio numero di consiglieri in consiglio comunale con i sindaci l'idea che si debba partire da strutture pubbliche ad esempio strutture ospedaliere già esistenti anziché andare a cercare la disponibilità diciamo dei privati. La nostra proposta è intanto utilizzare quello che c'è ora perché non possiamo più aspettare. La vostra proposta ha trovato adesione anche tra altri amministratori locali? Assolutamente sì non soltanto è stata approvata a maggioranza ieri nel consiglio comunale di Campobasso ma ha trovato l'adesione di una serie e di un numero e di una consistenza importante dei sindaci del Molise anche di minoranze consigliari dei comuni del Molise stanno continuando ad arrivare adesioni. La nostra proposta è la proposta, le nostre proposte sono le proposte per risolvere la situazione emergenziale oggi di tutti i molisani. Se come è vero oggi il Cardarelli è ab Covid, è inevitabilmente ab Covid, la situazione sanitaria totale globale in Molise arriva a Campobasso e riguarda la salute in questo caso anche la sopravvivenza addirittura di tutte le cittadine e tutti i cittadini molisani e per questo abbiamo chiesto, abbiamo contattato i sindaci e abbiamo avuto un numero importante di adesioni. Grazie a tutti.